Idro Day, il Club Astra insieme a Voli di Mare ha organizzato questo speciale evento per voi. Decogliamo dall'aviosuperficie Club Astra. Abbiamo retratto il carrello e in questo momento andiamo a cercare un'area idonea a un possibile ammaraggio. Questa operazione chiaramente deve essere svolta con particolare attenzione. Il sorvolo dell'area ci permetterà di identificare se ci sono tronchi o ostacoli nel percorso che dovremo fare per poter ammanare. Una volta definito imposteremo un circuito. Un circuito standard che in questa circostanza è stato valutato di fare un circuito destro, quindi sottovento. In questo momento siamo in base, come potete vedere. E a breve entreremo in quello che sarà il nostro finale. Il finale prevede una verifica ulteriore della retrazione del carrello e che quindi ci permetterà di verificare che ci siano le tre luci blu accese e una verifica visiva dallo specchietto che il carrello anteriore si è retrato. Siamo ammarati sul fiume, non ci sono onde, tronchi o impedimenti e quindi come potete vedere sul fiume l'aereo ha un momento in cui è ancora planante e si risolve l'ammaraggio rallentando completamente fino a che non diventa dislocante. A questo punto giochiamo tirando giù i timoncini che governano appunto la navigazione in acqua e giochiamo come una barca andando su e giù per il fiume a destra e a sinistra. Ora ci godiamo il nostro relax e spegniamo il motore e a questo punto ci dedichiamo a gustarci il paesaggio che ci riserva la Valle del Po. e poi via! Riprendiamo le nostre operazioni di amaraggi e decolli. Continuiamo fino a che non abbiamo imparato bene questa manovra. decolliamo, facciamo in modo che l'aereo diventi planante, come vedete le scie di acqua sfuggono sotto il redal, una leggera richiamata e l'aereo è in volo. Ci gustiamo un po' di volo sulla Valle del Po e rientriamo. Carrello estratto, tre luci verdi e via! Atterriamo su terra e ci prepariamo per il prossimo volo. Vi aspettiamo per provare questa fantastica esperienza. Ciao, a presto! Ciao, a presto!